Gli eventi di piena dell'agosto del 2020 avevano causato il crollo del muro di sponda a sinistra del torrente Chiavone Bianco nel tratto in cui il corso d'acqua attraversa il centro di Breganze. Erano stati danneggiati anche i pali dell'illuminazione e la pista ciclopedonale. Il consorzio di Bonifica Brenta, data la situazione di grave pericolo, è intervenuto per ripristinare lo stato dei luoghi e mettere in sicurezza tutta l'area. I lavori, costati quasi 200.000 euro, sono terminati nei giorni scorsi.